l'ultimo che è rotto e scarumato questo è ruvito qua che c'è qua una lampadina e ci riposo non puoi andare mai questo qua questo è che c'è qua 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 una serenata povera a dire che era vecchia che c'è qua io c'è qua io c'è qua e qui 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 c'è qua qui c'è qua che c'è qua il mio figlio è andato a me e non c'è il papà il papà ma non si stai vinto al pacchetto della casa nostra ma fai ricetta su questa delizia facevamo in realtà a stanza c'erano i giancarelli e i travi di ghiando da noi c'erano una villa, appena sono vanno pochi giù ma le ragazze le pollicino a sotto in casa le gare tutte cose perché noi ci muovono e ce ne va una villa a bordo ma saremo bene questo è il picciatore che la trovi prima e il picciolo è giusto si mette molto con tutti i ghiando non si mette la gare di noi e la gare di noi e la gare di acqua e la gare di acqua io lo voglio accattare lo voglio accattare ma non è bene e tutti ci sono se ne fanno tutte cose e come sono uova però si vede la scala è andata si c'è sta si c'è sta che si accattava Cecilio Prezio Russo si sposava a Giovanno Russo Giovanno Russo si scopava non è bene ma non è bene ma non è bene ma io ho accattato pure non è bene ma qualcuno si voleva recuperare questa è una nannina tante le mani ti devi sapere le mani le mani e la nannina praticamente ti devi sapere facendo l'uovo sotto il forno si chiama e chi stacerebbe i porchi e non ci deve mai la felle di cargandù che le hai che è il rapporto di un attività? Il rapporto è Raffaele o Ghiandier Tu sei Raffaele o Ghiandier? Il rapporto è Luca Il rapporto è un rapporto Il rapporto è un rapporto Il rapporto è un rapporto Inoltre siamo i suoi proscioli Inoltre la nostra società E' un rapporto Sicuramente laedsione Questi miei casi, al palazzo andiamo, ora non facciamo bene, andiamo alla casa e qui c'è ancora da nascere, qui c'è andato a l'ultimo a tutti. E io? E questo facevo io, no? Poveretto Gesù Cristo, c'è il testo porro, c'è graziato, la c'è misa a prova di tutte le cose, non mi ricordo. Grazie.